Grazie a tutti. Ma la smettano. Perché io so una del popolo. No, lei è un elito ormai. Eh, che fa? Ma. Cosa? Dobbiamo costruire un'Unione Europea che faccia meno, ma che faccia meglio. Cos'è sta roba? Perché? Eh, che è? Ti è piaciuto come ho chiuso? Ah, con la smorfia così? Io nei discorsi ci metto tutta la gamma delle emozioni, capito? Ora la smorfia. Sì, sì. Eh, come di... Ti racconta al mondo sta smorfia. Sì, sì. Sì, sì.